Buongiorno, parliamo ora di un aspetto della cittadinanza digitale che è di interesse di ciascuno di noi ed è quello dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Come abbiamo già detto non bisogna enfatizzare troppo questo aspetto, nel senso che la pubblica amministrazione meno cose ci chiede e meglio è, perché la gran parte delle cose che ci chiede già le sa, però esistono tutta una serie di attività che comunque invece sono legate ai ruoli specifici dell'amministrazione pubblica che non possono che essere delle interazioni con i cittadini. La prima che mi viene in mente è per esempio, basta pensiamo se vogliamo ristrutturare la nostra casa, ovviamente la ristrutturazione di una casa richiede dei permessi, abbiamo visto che danni terribili è creato quando i permessi sono stati dati in maniera troppo leggera, richiede un'autorizzazione dell'amministrazione pubblica e quindi richiede un'interazione con l'amministrazione pubblica. Questa interazione può avvenire in tanti modi, è uno degli esempi soli dei servizi e altrettanto sono tutte le forme, pensate a tutte le forme in qualche modo anagrafiche, non tanto quelle per cui l'amministrazione chiede a noi cose che già sa, ma quelle in cui rilascia a noi delle attestazioni che ci servono soprattutto verso i privati e che quindi possono essere di interesse oppure ci rassicura su alcune, non so, su un cambio di domicilio, un cambio di residenza, una situazione in cui dobbiamo essere in qualche modo certificati di un nuovo status, un matrimonio, una nascita, la nostra vita è fatta spesso di eventi, questi eventi hanno molto spesso un affronto pubblico. Allora, i servizi digitali nascono intorno a un mito che io ho chiamato, il mito rifacendomi è un grande autore per bambini che a me piace tantissimo che si chiama Robert Dahl, forse l'avete sentito per quello che ha fatto la fabbrica del cioccolato, forse è il libro più famoso, che adesso è uscito un film da un suo bel libro che si chiama Il grande gigante portale gentile e io immagino il mito della pubblica amministrazione su internet è il grande portale gentile. Il grande portale gentile è questo grande portale meraviglioso a cui tutti accedono e trovano tutto in questo portale. C'è tutta la PIA, il famoso one stop shop, il negozio in cui mi fermo una sola volta e trovo tutto lì e il cittadino cercando bene, sapendo cosa cerca trova tutti i servizi, ma è peccato che questo amico è morto, perché è morto nei fatti, perché nell'indice desi abbiamo scoperto che noi siamo i primi in Europa per disponibilità di servizi digitali, tra i primi, non proprio i primi, tra i primi in Europa per disponibilità di servizi digitali e purtroppo ultimi nel loro uso, quindi qualche cosa non deve aver funzionato qui. Abbiamo grandi portali gentili, abbiamo speso un sacco di soldi di portali, se abbiamo la massima disponibilità di servizi online e poi nessuno li usa, forse abbiamo sbagliato nell'usabilità. Peccato, è come se avessimo fatto delle bellissime vetrine di un meraviglioso negozio e le avessimo messe in una strada in periferia dove non passa nessuno. Probabilmente i cittadini sui portali non ci vanno più, io non so, il mio figlio piccolo ha 21 anni, penso che un portale lui non l'abbia mai visto in vita sua, il mondo di internet e dei portali è rimasto solamente nell'immaginario di qualche informatico pubblico. E allora che deve fare l'amministrazione pubblica? Deve spostare, come lo farebbe uno che mette un negozio, non deve sperare che i clienti vengano dove sta lui solo perché ci sta, ma deve andare lui dove stanno i clienti, quindi aprirà uno che vuole fare un negozio, aprirà in una strada frequentata o metterà il negozio in un centro commerciale dove passano migliaia di persone al giorno. E così deve fare la pubblica amministrazione. In questo momento è finito il momento dei grandi portali gentili e comincia il momento in cui è necessario incontrare i cittadini e i cittadini nella loro vita quotidiana nei posti che i cittadini frequentano. E dove vanno i cittadini? Dove frequentano i cittadini? I cittadini sono sul mobile, sicuramente. pensate che attualmente le statistiche ci dicono che i siti internet sono visti oltre il 60% sul mobile e ancora ci sono solo il 20% dei siti internet della pubblica amministrazione che sono ottimizzati per mobile. La maggior parte non si vede niente, provateli, provate il sito del vostro comune. Se siete fortunati, si capisce, probabilmente se abitate in una grande città, se abitate in una città più piccola il vostro sito sarà illeggibile sul mobile, nonostante il 60% delle persone lo guardano così. Quindi spostiamoci dove cittadini stanno. I cittadini stanno sulle app, per esempio. Pochissime amministrazioni pubbliche hanno organizzato delle app modernamente intese, è stato un momento di moda delle app intorno al 2010-2011, poi non hanno più creato dei servizi effettivi sulle app, perché? Perché non si è creata quella piattaforma di API Economy, quindi di economia delle applicazioni interoperabili tra le amministrazioni che sono fatte, di cui l'esempio più caratteristico e forse più intelligente è stato E015, quindi una grande piattaforma digitale che ha retto l'esposizione di Milano nel 2015. In questo senso, in questo ambito, creando il negozio dove i cittadini vanno, fuori di metafora, creando dei servizi dove i cittadini li possono usare più facilmente, dobbiamo stare attenti a cinque grandi principi che vi cito brevemente. Il primo è quello dell'accessibilità, il secondo è quello dei contenuti, il terzo è il linguaggio, il quarto è l'usabilità e il quinto li assumo un po' tutti, che è il concetto di user experience. Andiamo molto velocemente su tutti. Accessibilità vuol dire sostanzialmente che la pubblica amministrazione, accessibilità vuol dire per tutti, nel 2001 mi sembra, 2002, che poi la legge fu fatta nel 2003 mi sembra, ci fu un'importante legge che prese il nome del Ministro, quindi legge stanca in quel momento, che stabilì delle regole per l'accessibilità, soprattutto alle fasce alla disabilità ai siti pubblici, una delle leggi meno applicate nel paese, una legge però di civiltà che ci aiuterebbe a capire che un sito che è fatto in maniera chiara per chi ha dei problemi di accessibilità derivati da disabilità, probabilmente è un sito migliore per tutti, così come una città che ha gli scivoli invece nei marciapiedi non è una città buona solo per chi va anche a Rozzella, ma anche per chi cerca a Rozzina con i figli, anche per chi una volta porta un al carrello della spesa, anche per chi una volta, magari senza essere disabile, si è rotto la gamba, cioè una città accessibile è una città migliore per tutti, e così un sito accessibile è un sito migliore per tutti. Nessuno utente deve essere discriminato, anche se si trova in particolari condizioni fisiche, ci sono delle regole precise che si potrà andare a vedere più in dettaglio, ma comunque il concetto fondamentale è nessuno escluso. Il secondo punto sono i contenuti, progettare i contenuti in termini user center, centrati sull'utente, molto spesso nei siti pubblici vediamo una caratteristica, chi fa il sito è innamorato di se stesso, oppure è innamorato a volte del suo ministro, a volte proprio di piageria, quindi sono pieni di fotografie dei ministri e pieni di racconti di quelle che le amministrazioni hanno fatto, cosa che normalmente il cittadino che va sul sito, su mobile o su desktop o lo va a cercare su una app, cerca qualche cosa che gli sia utile, nella maggior parte dei casi le amministrazioni pubbliche non forniscono degli ambienti che fanno capire immediatamente l'utilità di questo ambiente per il cittadino stesso. Se andate a guardarvi, provate a fare una scorsa dei siti nei ministeri, se vi volete divertire un po', trovate le foto di tutti i ministri in tutte le pose possibili, trovate quello che hanno fatto, l'ultima volta che hanno avuto una visita, quante volte hanno stretto le mani, prima di cercare di capire cosa può effettivamente esservi utile dovete fare almeno tre clic. Nei comuni è molto diverso, ci sono dei comuni che sono molto orientati, centrati sull'utente, vi faccio l'esempio del comune di Milano di nuovo perché appena rifatto il sito è un sito secondo me molto interessante e centrato sull'utente e dei comuni che lo sono pochissimo, lo vedremo successivamente, che lo sono pochissimo, che raccontano se stessi, uno dei difetti principali dei contenuti non centrati sull'utente è che racconto di me, non racconto di quello che potrebbe servire a chi mi sta davanti. Terzo tema ovviamente è quello del linguaggio, non basta parlare in italiano, bisogna parlare in italiano comprensibile, alto indice di leggibilità, l'indice di leggibilità non è una cosa che ce lo deve insegnare Manzoni, ci sono dei test facili disponibili, in questo momento anche gratis perché si prendono quasi tutti sono free software e sono disponibili, l'indice di leggibilità ci dice quanto questo testo è leggibile, se non è leggibile non va bene per un sito pubblico, anche se è molto intelligente, non funziona per un sito pubblico, un sito pubblico deve essere leggibile per quei concetti di accessibilità che abbiamo detto prima. Poi ci sono le regole normali che non vi voglio neanche dire perché buonsenso ce l'ho detta, frasi piccole, frasi brevi, parole significative, immediatezza nei concetti, linguaggi sintetici, non usare linguaggi scientifici, non usare acronimi, non ammiccare, il rischio di questi siti quando usano il linguaggio è che ammiccano, io e te l'abbiamo capito, anche se gli altri non hanno capito che se ne importa, quindi cerchiamo di evitare di ammiccare nei siti pubblici perché il linguaggio deve essere a disposizione di tutti. Il tema dell'usabilità è un tema enorme su cui poi bisognerà andare più in profondità, ma l'usabilità vuol dire sostanzialmente una volta che ho avuto accesso, una volta che il linguaggio è stato comprensibile, trovo esattamente quello che mi serve, posso usare questo sito, è un test di efficacia, questo sito è efficace per risolvere i problemi per cui io ci sono andato sopra, se è efficace io lo posso usare, se non è efficace non lo posso usare, anche qui dipende molto dalla nostra capacità di progettazione all'inizio, piuttosto che non dal appiccicarci sopra dei tools, non sono strumenti che dobbiamo metterci sopra e dobbiamo progettare dall'inizio chiedendoci immediatamente con una buona domanda di marketing e chiedendoci immediatamente ma sto risolvendo il bisogno di quello che mi sta davanti? Se la mia risposta è sì, posso andare avanti? Se la mia risposta è non lo so, forse sarà meglio che lo riguardo questo sito perché probabilmente non ho presente esattamente chi ho davanti e quindi non ho presente esattamente i suoi bisogni, non avendo presente esattamente i suoi bisogni non sono stato in grado di servirlo, anche qui ci si prova, nessuno nasce imparato, bisogna sperimentare, sperimentare, esistono le teste di leggibilità, esistono le teste di usabilità che sono le teste anche lì facili e gestibili anche da un'amministrazione non di primissimo piano, bisogna cercare di farli perché cercare di capire che questo è un tema fondamentale e questo porta all'ultimo tema che è quello del user experience, è difficile parlare di user experience a noi che ormai abbiamo una continua user experience in tutto quello che facciamo, ma se siamo abituati ad andare su Amazon, se siamo abituati ad andare su Google, se ciascuno di noi va su Airbnb, se andiamo sui portali delle città di tutto il mondo per capire quando ci sono le mosse che ci interessano o no, se facciamo spesa su internet ormai, ciascuno di noi è abituato a una user experience di livello immediato e quella vogliamo, nessuno di noi pretende la luna, ma nessuno di noi è in grado di accettare una user experience inferiore a quella di Google o inferiore a quella di Amazon, allora lì è sempre il benchmark, qual è il nostro benchmark? Se il nostro benchmark è il comune a fianco forse dovremmo anche essere bravissimi, se il nostro benchmark è nella user experience, è la user experience di quando usciamo dall'ufficio, forse dobbiamo smettere, io dico sempre che gli impiegati pubblici hanno dei guantoni che mettono quando arrivano in ufficio, quando stanno a casa lavorano come lavoriamo tutti noi sulle tastiere, sullo smartphone, sul mobile, in maniera veloce, rapida e abituati a una user experience immediata, quando entrano in ufficio mettono i guantoni e su questa tastiera non stanno più lavorare, allora si accontentano di situazioni di basso livello, ecco la pubblica amministrazione su internet nel fornire servizi non si può accontentare dei servizi di basso livello e deve pretendere lo stesso livello, lo stesso standard di user experience che esiste nel mondo fuori. Interessante, con questo chiudo, andatevi a guardare il sito del team digitale, il team digitale di Diego Piacentini che sta lavorando molto sulla digitalizzazione dell'Italia e della pubblica amministrazione italiana, ha scritto un bellissimo post su Medium, molto bello, su come si imposta un servizio pubblico incentrato sull'utente per fornire user experience, forse l'amministrazione pubblica se leggesse questo saggio, non è un saggio di una pagina, bisogna avere un po' di pazienza per leggere, ma se leggesse questo saggio potrebbe fare un passo avanti verso la normalità, non verso l'eccezionalità, verso la normalità. Grazie per la visione!